Rieccoci alle previsioni meteo, bel tempo e sole splendende a Foggia in Capitanata, con temperature sopportabili, 28 gradi registrati per la massima, 21 per la minima. Sole su tutta la Puglia e tempo stabile anche nella giornata di domani, quando a Foggia si registrerà un aumento della temperatura, dunque tempo sereno, assenza di AFA e temperature nella norma. Mi fermo qui, vi ringrazio per l'appuntamento con il meteo in coda ai prossimi notiziari. Arrivederci!